che differenza c'è tra uno striptease e uno strippaggio beh lo striptease ti lascia in mutande lo strippaggio ti lascia dentro tutta una serie di sensazioni cos'è lo strippaggio e l'assaggio cerebro gastro sensoriale dell'olio d'oliva extravergine si fa così allora prima lo annusi poi prendi un sorsino lo spazi tutta la lingua neanche sopra il palato e poi entra dentro e vedi e vedi e senti cosa sento e questo è un olio riguro per cui io sento sento il mare sento il vento sento il sole sento il fruttato sento le mandorle quasi quasi sento anche la musica del festival di sanremo non ci credi allora sappi che le aziende dell'oliva riviera ligure di op ti invitano il 15 e il 16 giugno a provare ad assaggiare a conoscere a visitare i frantoi gli oliveti www.olivetiaperti.it